www.fibili.com Sulla A11 per traffico intenso sono segnalati rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la A1 in direzione Firenze. Sulla A12 per lavori sono segnalate code a tratti tra Massa e Versilia in direzione Livorno. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!